Duranti e parentela, la seuta termina alle 20 con la lettura dell'ordine del giorno della seuta 17 settembre 2015 con inizio alle 9.30. Se non mi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che essenzia l'articolo 46,2 del regolamento dei deputati Boccia, Caparini, Carbone, Antimo Cesaro, Costa, D'Alia, Damruoso, Demenech, Del Lai, Di Lello, Epifani, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Guerra, Marazziti, Nicoletti, Nardelli, Pisicchio, Portas, Relacci, Rosato, Sani, Sciulian e Valeria Valente sono in missione a decorare la seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 107, come risulta l'elenco ripositato presso la Presidenza e sarà pubblicato nell'allegato a resoconto della seduta odierna, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle ore 10. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie a tutti.